Musica Basta andare a ascoltare le prime udienze su Radio Radicale di Mafia Capitale vi rendete conto come gli avvocati dei mafiosi imputati, cominciati da carminati continuano ancora in aula senza che ve ne siano motivi ad accanirsi nei miei confronti però i giornalisti che sono presenti in aula fanno finta di niente e per fortuna c'è un presidente di tribunale, un PM che lo richiamano all'ordine ci sono molti scontri, però per i giornalisti romani è niente Andate a sentire le udienze su Radio Radicale, vi renderete conto ogni volta che parla Naso non c'è mai motivo però mi deve sempre infilare in mezzo, attaccarmi, ironizzare con le tante risate che gli altri avvocati che sono delle pecore hanno ma come vi ripeto sotto lo sguardo di carminati per compiacere carminati e far vedere carminati per intimidire i testi che sono lì perché lui aggredisce queste persone e per fortuna però c'è un presidente di tribunale che interviene i PM che intervengono a un comportamento più elegante che si addice a un'aula di tribunale però questo purtroppo a me dispiace che poi sulla stampa romana quelli che seguono i processi non avviene e lo sapete perché mi dispiace, non perché deve essere riportato il fatto che si attacca Liri Abate o comunque come hanno anche attaccato Naso attacca anche Bonini o altri ascoltate queste cose mi dispiace perché questa cosa crea come in altri territori le mosche bianche e uno come carminati come poteva essere in Sicilia Bagarella o altri personaggi legati o in Calabria dove ho avuto anche problemi si arrabbiano perché vedono le mosche bianche perché se ci fosse una informazione diversa, compatta non ci sarebbero le mosche bianche e queste persone non avrebbero o anzi non penserebbero nemmeno di prendersi o di accanirsi contro un giornalista siccome sanno che tutti gli altri non sono così allora si permettono di prendere la mosca bianca e tentare di schiacciarla e fin quando ci sarà questo metodo, questa mentalità di dividere le cose le mosche bianche continueranno a esserci e ci saranno quelle che tenteranno di schiacciarle però non ci possiamo fare niente ma sono dati di fatto attuali ma vorrei ricordare che la Camera Penale di Roma per la prima volta ha fatto un esposto nei confronti di 90 giornalisti compresi 10 direttori o qualcosa del genere prima dell'inizio di questo processo e per la prima volta ha fatto emergere che noi abbiamo violato i giornalisti hanno violato una norma che è la pubblicazione intera di brani degli atti del processo che secondo loro, che in effetti potrebbe pure essere dovremmo essere perseguiti penalmente per una parte, per l'altra parte diontologicamente da parte dell'ordine dei giornalisti perché non si può fare, perché la legge dice che non lo possiamo fare per cui tutti cioè la Camera Penale si sono mossi e hanno fatto questo documento questo esposto questo per farvi capire che cosa succede a Roma forse è bastato questo per cercare di far capire ad alcuni direttori, ad alcuni colleghi della crona che bisogna allinearsi che bisogna stare con gli avvocati la prima udienza fatta a Re Bibbia c'è stato l'avvocato Naso che si sente diciamo il capo diciamo Fila capo Fila no capo e contestava le udienze perché questo presidente vuole accelerare il processo ce la facciamo in fretta una volta che c'è un magistrato dice velocizziamo la giustizia in Italia e invece ci sono gli avvocati che si mettono contro dice no troppo veloce perché abbiamo altri impegni quattro udienze a settimana non si possono fare e lui e lui ha fatto un discorso che è registrato andatelo a sentire in cui ha proprio inveito contro il tribunale eccetera ma soprattutto ha fatto una cosa grave che siccome fino a quel momento non tutti gli avvocati erano ancora compatti con lui ha parlato dei pierini ma soprattutto di avvocati che sono qua 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 che nei corridoi dicono una cosa e poi in aula non la fanno ma come si possono per me ma come si può permettere o comunque un avvocato onesto leale che giustamente l'avvocato difende gli imputati di qualunque esso sia ma come può permettere che un suo collega dica una cosa del genere non si rivolga all'ordine o non faccia una relazione tutti sono stati zitti in quel momento hanno subito è come il capo che dice una cosa e allora silenzio tutti zitti e mosca tutti zitti e mosca e questa cosa ti dà proprio il senso delle cose ti dà proprio il senso del fatto che non è un processo normale come dovrebbe essere ma un processo super diciamo super mafioso con metodi e terminologie mafiose che dovrebbe essere seguito ancora meglio dai colleghi siamo a Roma e diciamo non riesco a trasmettervi la stessa sensazione ambientale la stessa puzza che si può sentire a Reggio Calabria o a Palermo o a Catania di fronte a cose di questo genere ma che io la sento qua così come quando seguivo Carminate sentivo la stessa puzza di mafia che vedi in altri territori purtroppo voi per fortuna non ci siete abituati non ci sono abituati gli altri si immaginano che queste sono persone sono salvatori del territorio perché ti risolvono i problemi eppure in Sicilia risolvono i problemi soltanto che quella si chiama mafia che si chiama mafia che si chiama mafia